Rossi nella scia di Pedrosa, sembrava volesse provare ad uscire ma evidentemente non c'è margine per farlo, forse sì, 300 all'ora adesso, la staccata, si riaccoda Rossi al piccolo Pedrosa, al piccolo Pedrosa 37,8 per Pedrosa, 37,9 per Rossi, 38,5 per Stoner che ha perso molto, è sopra al secondo il suo distacco in questo momento, 1,38,3 invece due decimi più veloci di Stoner per Nicky Aide Ascoltiamo le moto in pista Che spettacolo Ascoltiamo le moto in pista